è cominciato il match tra strada madrid e roma capoccia 0 a 0 dunque quelle fatima parque di milano valevole per la terza giornata del girone bocconi diamo adesso il processo palla di celani che calcia attraversa occasione roma capoccia ramella tocco all'indietro la conclusione deviata tentata da savo che dunque corner il cross di crestani pallone allontanato salvento sul pallone brebbia o meglio ramella poi la conclusione di brebbia che trova all'angolino nulla da fare per serao vantaggio vantaggio dunque per lo slale madrid adesso vediamo la giocata tentata la cola santi poi ancora insiste sulla destra casoni poi la conclusione di cola santi deviata corner poi qui corti allarga per milani la conclusione di milani pallone che termina sul fondo su questa conclusione finisce quel primo tempo 1 a 0 a favore dello slale madrid su roma capoccia decide la rete di brebbia comincia la ripresa sulle punti di battuta brebbia che calcia serao e spinge e poi allora palla in possesso la parte di romana capoccia vediamo brebbia recupera il pallone la conclusione la grana risposta da parte di serrao la parte di serrao e saliamo corti va il cross in mezzo la conclusione tentata da brebbia poi non sul fondo brebbia e corti come al solito sulle punte di battuta vediamo va brebbia con il destro la parata di serrao che respinge con i piedi vediamo adesso bortoli che pensa la conclusione la prova la grana risposta ad opera di calvi si fa vedere anche Roma capoccia bortoli sulla sinistra allarga per casoni pallone dentro poi celani tiene un gioco la palla bravo qui celani in questa circostanza si accentra poi larga per bortoli ancora bortoli prova lo spazio lo cerca che poi la conclusione però termina alta a insiste poi lungo sulla destra sbaglia tutto luogo rimessa laterale per lo sliallo e madrid palla per la saboca lo stop e la conclusione la risposta ancora di serrao punizione vediamo celani sulle punte di battuta l'ho già vista questa scena l'ho già vista vediamo celani occhio vai celani ancora celani insiste sulla sinistra celani si accentra col destro bruttissima conclusione e su questo tiro termina le match vince lo sliallo e madrid per una rete a zero decide il gol di brebbia dalle fatima parche di milano è tutto un saluto da riccardo lionetto